Ritirarlo? Perché abbiamo tre nomination, Beautiful Rai 2, Renzo e Lucia Rete 4 e Sentieri Rete 4. Vogliamo vedere chi è che vince questo premio? Chi ritira? Renzo e Lucia. Ritirano Luisa Cuglior e Osvaldo Napoli. Ritirano Lucia Ritirano. Ritirandovi, perché so che lei sostituirà la Lollo Brigida. Mia mamma. Ma non è possibile sostituire la Lollo. No, ma lei farà adesso la parte di tua madre, in definitiva, mentre adesso invece fa... Renzo Lucia e mia donna. Ecco, e poi invece diventerà tua madre. Dunque, io so che, Julio, tu hai vinto già altri Telegatti, se non mi sbaglio, anche l'anno scorso. Qui c'è scritto che hai vinto con la donna del mistero, no? No, sì, da due anni fa, sì. Due anni fa, chiedo scusa. Con la donna. Mentre invece so che Laporte vorrebbe trasferirsi in Italia, è vero? Serra Laporte. Eh? È vero? È vero? È vero. È un personaggio notissimo a tutti, perché in Italia generalmente si dice sempre Laporte. Pensa, ti chiameranno continuamente. Luisa Cuglior e Osvaldo Laporte. Laporte, via. Grazie. E adesso... Premiamo ora la categoria che...